benissimo buongiorno a tutti e benvenuti benvenuti davvero di vero cuore su second life ecco che adesso facciamo subito un giro cos'è second life second life è la realtà virtuale e la seconda vita è una realtà che ormai nel mondo intero sta interversando e che si conosce parecchio è una realtà che più che essere virtuale è proprio reale in questo mondo in questo secondo mondo la gente si costruisce una seconda vita crea il proprio avatar crea la propria doppia identità si crea esattamente come vorrebbe essere ed oggi ci troviamo qui al duomo di milano su second life si possono concludere transazioni operazioni commerciali si possono creare rapporti si possono acquistare terre immobili si può creare la propria isola e tutto questo ha una serie di implicazioni non solo di carattere economico ma anche ovviamente giuridico e noi siamo qui con il nostro avatar chi vi parla è come sempre da formalex.it l'avvocato alessandro granieri garilei sono sempre io che tramite il mio avatar che è questo che voi state vedendo e che adesso avvicino ecco mi faccio un attimino un primo piano parlo a voi parlo a voi nella mia nella mia fisicità se vogliamo nella mia fisicità virtuale questo è il nostro primo incontro su second life e stiamo parlando a tutti voi qui da piazza duomo dalla piazza duomo di milano probabilmente questa è la prima volta che un un legale un avvocato italiano si trova in un mondo virtuale e da qui annunciamo l'apertura del nostro studio legale e della nostra attività di formazione giuridica e consulenza legale online on air su second life vi salutiamo quindi e speriamo di avervi presto insieme a noi second life il mondo virtuale che sta rivoluzionando veramente il modo di trattare le operazioni commerciali le transazioni ormai oggi tutto si fa in maniera digitale e chi non lo ha ancora capito credo proprio che farebbe bene a aggiornarsi a seguirci nelle nostre nuove prossime puntate perché da qui partirà una serie di iniziative che porteranno anche voi su second life grazie per essere stati con noi e arrivederci da formalex.it e da me alessandro granieri galileo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.